Direttore, però, se lei va a letto alle 22.30 così presto, come fa a vedere l'imitazione di Crozza? E a questo proposito cosa ne pensa? L'unica eccezione la faccio proprio per Crozza, quando mi ricordo che è venerdì, perché non sempre me lo ricordo, però di solito lui va in onda proprio alle 10.30, per cui io mentre mi spoglio, che mi preparo per andare a dormire, ma avendo una televisione in camera, l'accendo e mi do un'occhiata a Crozza e anche a qualcun altro qualche volta, perché non è che proprio appena metto il culo nel letto mi addormento, insomma. Ma cosa ne pensa dell'imitazione che Crozza fa di lei? Perché è una delle più seguite, peraltro. Sì, mi diventa moltissimo al punto che adesso sono io che imito Crozza, non Crozza che imita me. Come provi a imitare Crozza? Glielo posso chiedere? È fattuale!